Sei sicuro che non vuoi che ti accompagni dentro? Ma, ma... Va bene, come vuoi. Per favore. Buona giornata, focacina mia! La 20th Century Fox presenta Diario di una schiappa, guida per sopravvivere a scuola. Non fate amicizia con i tipi strani. Volete vedere il mio neo segreto? C'è persino un pelo! Non seguite i consigli di vostro fratello maggiore. Ti faranno fuori comunque entro la fine dell'anno. E soprattutto... Non toccate il formaggio. Fermo! Sei pazzo, Greg! Stavi per prendere la formagite! Vedere, non ha toccato il formaggio! Tanto per la cronaca. Sappiate che per me la scuola media è la cosa più stupida che sia mai stata inventata. Per fortuna ci sono anche persone normali. O questo sarebbe un posto pieno di matti. Il mio nome è Ombelico. E tu chi sei? Quest'anno... Ma il costume! Me l'ha fatto la mamma! Il miglior modo per sopravvivere... Fai una mossa! È una ragazza! Dove l'affetto? È essere voi stessi? Sì! Geronimo! Non credo ai miei occhi. Diario di una schiappa Prossimamente!